Qualche giorno fa ho fatto un video in cui vi parlavo dei principali errori da evitare, in realtà dei quattro errori da evitare nel trading online, i quattro errori che portano la maggior parte dei trader a perdere, a non avere profitto, a non avere successo. E voglio mostrarti come io quello che dico è esattamente quello che poi metto in pratica ogni giorno e lo faccio con questa operazione di oggi, dove sostanzialmente aver rispettato il messaggio che ti ho dato in quel video, ossia di evitare questi quattro errori, mi ha permesso di chiudere la sessione su questa azione assolutamente in profitto, come ti mostro tra un secondo. Dammi un attimo che porto qui la finestrella del profitto perdita e ti mostro. Ora c'è ancora una parte che sta correndo al mercato perché penso che possa avere una continuazione ancora ribassista o comunque la andrò a chiudere eventualmente in area qui 270-280, vediamo, magari possiamo farlo anche insieme. E di conseguenza cosa significa? Allora, in quel video parlavo dei principali errori che erano sostanzialmente, il primo era che il mercato ha sempre ragione. Quindi non importa quello che penso, non importa quello che credo, il mercato ha ragione, quindi non pensare di poter avere ragione sul prezzo e sul mercato. Il secondo era quello di far finta di niente, che qui non c'entra molto. Il terzo invece era quello di andare ad evitare, di cercare di risolvere un'operazione che sta andando male, invece di massimizzare l'operazione quando è possibile. E il quarto invece è quello di non essere troppo pesante e troppo presto. Qui perché mi ha salvato andare a rispettare quello che vi avevo detto in quel video? Perché io avevo idea di andare a shortare sostanzialmente questo range qui dai 225 ai 250. Questa era la mia idea di base. Però come ho detto in quel video, io non devo pensare di poter avere ragione sul mercato. Io ho un'idea, so che questa mia idea il più delle volte mi porterà in profitto, ma nei momenti in cui il prezzo mi dà assolutamente torto, io devo fare due cose andando a sostanzialmente ottemperare quelle regole di cui ti ho parlato. Ossia, la prima, non pensare di avere ragione sul mercato. Ok. La terza era non andare a risolvere un'operazione che mi sta andando contro, ma piuttosto cercare di massimizzarla. Tradotto, se qui il prezzo, la mia idea era di andare a shortare l'azione in questo range di prezzo e il prezzo mi va contro, io vado a stopparmi. Subito, immediatamente. Senza andare a cercare di mediare in perdita, senza andare a cercare di inventarmi qualcosa, senza rischiare di dover andare a sopportare una perdita troppo grande. Quindi mi stoppo immediatamente perché poi posso andare a rivalutare. E un'altra cosa importantissima che mi permette, e ti faccio vedere, nonostante io abbia preso uno stop, no? Nonostante io abbia preso uno stop qui, di essere comunque assolutamente in profitto, è che io ho rispettato anche la quarta regola. Ossia, non sono entrato troppo pesante troppo presto. Ossia, questi ingressi qui erano con una parte ridotta della mia size. Che significa? Se io voglio, ad esempio, entrare con, diciamo un esempio, con 3.000 azioni totali, io qui sono entrato con un totale di 1.000 azioni. Per poi fare cosa? Per andare a mettere le restanti 2.000 nel momento in cui il prezzo mi fosse andato a dar ragione. Ok? Nel momento in cui il prezzo non fa questo, ma anzi mi va in stop, io perdo con un terzo della mia perdita totale, che potrei sostenere. Cioè io perdo soltanto con le 1.000 azioni che avevo usato qui. Le altre 2.000 che avevo ancora la possibilità di inserire, che avevo disponibilità, non le ho messe al mercato, perché il prezzo non mi ha dato ragione praticamente da subito, è andato subito in stop. Quindi ho rispettato tutte le regole. Non mi sono focalizzato nel pensare di poter avere ragione sul prezzo, non sono entrato troppo pesante troppo presto, e non mi sono messo a mediare un'operazione cercando di risolverla, perché qui avrei soltanto finito per aumentare la perdita. Cosa è successo questo? Cosa mi ha permesso di fare? Andare a rispettare quelle regole di cui ti ho parlato in quel video mi ha permesso di fare due cose fondamentali. La prima, rimanere calmo, lucido, non esaurire energia mentale andando a dover gestire il prezzo che velocemente mi va contro e mi porta ad avere una perdita grande. La seconda è giocoforza derivante dal fatto che io abbia usato una size iniziale più piccola qui e quindi mi sono stoppato subito con una perdita piccola. Quindi ho fatto cosa? Ho ottenuto la perdita molto piccola e capitale mentale intatto, perché qui, nel momento in cui avevo chiuso in stop loss, avevo una perdita veramente piccola, gestibile mentalmente, ok? Io ho detto, ok, ho provato l'operazione, ho sbagliato il momento, la lettura, insomma, non ho avuto ragione, ma ho avuto una perdita veramente piccola. Questo mi ha permesso di fare cosa? Di continuare a seguire il prezzo e di andare ad attaccare forte invece questa volta con il massimo della size non appena il prezzo mi ha iniziato a dare le conferme che cercavo. E quindi sono riuscito a entrare short e lucido senza andare a mediare un'operazione in perdita da livelli non favorevoli. E quindi con un prezzo medio di carico che sarebbe stato bruttissimo, io ho chiuso tutto, ho chiuso tutto in perdita e ho ricominciato facendo praticamente uno, due, e se vogliamo tre, quattro top tick. Ho venduto tutti i massimi che si sono creati successivamente, ok? E ho avuto un'operazione che praticamente ha avuto sostanzialmente quasi sempre zero drawdown, a parte questo piccolo drawdown qui, e mi ha permesso di chiudere una sessione su questa azione assolutamente in profitto andando a rispettare quelle regole di cui ti ho parlato in quel video. Quando io faccio un video, il mio video è sempre frutto di trading, ossia frutto di esperienza reale sui mercati. È frutto, deriva dalle operazioni che io faccio tutti i giorni, da anni, e quindi non ti parlo mai di teoria o di concetti così, insomma, avrei sentito dire. Ti riporto esattamente quello che veramente, se è rispettato, può farti fare un salto importante nel tuo trading, perché rispettare quelle regole di cui ti ho parlato, ti ho dimostrato ora, ti ho fatto vedere come fa tutta la differenza del mondo tra entrare, rimanere convinti, pensare di poter aver ragione e dover gestire un'operazione che va in perdita e che velocemente dà una perdita piccolissima, gestibilissima e soprattutto recuperabilissima, perché io do per scontato che tu abbia le capacità per poi continuare a leggere il prezzo e rientrare short quando si manifesta il tuo vantaggio, quindi da una perdita così piccola, gestibilissima e soprattutto recuperabile, si può trasformare tranquillamente in una perdita enorme che non è più recuperabile e il più delle volte cosa succede? Non chiudi qui una piccola perdita e invece vai a chiuderla qui sul massimo dove hai esaurito il capitale mentale, hai esaurito le forze e hai esaurito anche il massimo della perdita che puoi sopportare in quest'operazione.